Grazie per avermi ospitato nella tua terra e per il caloroso benvenuto ricevuto. Edi. Ti aspetto in Italia. Quindi il primo ministro Giorgia Meloni su Facebook risponde al premier albanese Edi Rama che ieri. A sua volta per la visita in Albania prima della sua partenza per la Puglia. Dove il periodo di vacanza del leader degli Eidi continuerà in una masseria del Brindisi. Nelle ultime ore. Un passeggero del traghetto che collega L Albania e l'Italia ha pubblicato una foto dei suoi due figli social media con il premier un incontro improvviso ha scritto con Giorgia Meloni.